qual è la vera bellezza ai tempi del coronavirus cosa ne pensano gli amici che ci stavano da casa cos'è la bellezza di questi tempi è prenderci il tempo il nostro è danzare con il letto con una finestra con le mani e con i piedi in casa nostra è percepire il corpo nei dettagli anche nei nostri spazi più intimi è improvvisare ovunque siamo è prenderci cura di noi attraverso quello che sappiamo fare meglio o che ci va di fare è aspettare che il tempo passi ascoltando e ascoltandoci ognuno di loro come me nella propria casa vicino ai propri effetti e alle proprie passioni ci hanno raccontato cos'è la bellezza ai tempi del coronavirus fallo anche tu inviesci un video messaggio ai info chiocciola beautyadvisor.tv